Diamo subito il buongiorno al professor Aldo Morrone, direttore scientifico del San Gallicano di Roma. Bentornato professor Morrone. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere qui stamattina. Abbiamo bisogno di sue informazioni, come sempre precise, riguardo a queste varianti, soprattutto che stanno preoccupando molto, stanno preoccupando particolarmente in UK, con oltre 16.000 casi in poco meno di 24 ore. In realtà cominciano ad esserci dei focolai di variante Delta anche nel nostro paese. La prima domanda è come stanno le cose dal punto di vista numerico e se ci dobbiamo preoccupare. Dal punto di vista numerico noi siamo messi ancora bene, nonostante il centro europeo dica che noi siamo il quinto paese per la presenza della variante Delta. Quindi devo dire che noi riusciremo a superare il problema della Delta. Però è nata una Delta Plus, cioè è nata una Delta K, una variante della variante che in India già è stata individuata e che rappresenta un rischio per una maggiore trasmissione della infezione. Però fortunatamente non è letale, quindi non fa ammalare le persone e soprattutto non le uccide. Questo è importante. C'è un unico modo, a mio parere, di contrastare la diffusione della Delta in Italia e comunque in Europa e nel resto del mondo, che è quello di vaccinare immediatamente tutte le persone con la seconda dose, che un errore probabilmente è stato fatto in Gran Bretagna è stato quello di aver investito molto sulla somministrazione della prima dose e aver rallentato la somministrazione della seconda dose. Molto bene, grazie per la sua chiarezza. Allora, a proposito di vaccinazioni, al centro del dibattito c'è il tema del mix di vaccini, chiamiamolo così, negli scorsi giorni l'apertura nei confronti della possibilità di vaccinarsi con AstraZeneca in seconda dose per chi avesse meno di 60 anni, insomma, firmando un consenso informato e nelle scorse ore invece il sottosegretario della salute, Sileri, ha detto sì, io darei la possibilità di fare la vaccinazione eterologa anche agli over 60, ma questo consenso informato, insomma, siccome neanche la scienza ha raggiunto una vera e propria unità di opinioni su questo, com'è possibile dare in mano questa decisione ai singoli cittadini? E questo è vero, intanto dovremmo migliorare questo consenso informato, spesso è semplicemente una firma su un foglio che uno ha letto rapidamente oppure non ha neanche compreso e quindi questo dovrebbe migliorare il rapporto tra medico e paziente, in modo tale che la firma o il consenso informato sia davvero una partecipazione a quel gesto o a quella somministrazione del vaccino o comunque all'erogazione di una prestazione sanitaria. Dovremmo migliorarlo perché spesso i medici che sono negli hub giustamente non conoscono il paziente? Ecco perché il paziente deve andare negli abs, deve essere vaccinato, ma deve sentire, a mio parere, il rapporto con il proprio medico di famiglia che teoricamente dovrebbe conoscerlo meglio e dare dei consigli per potergli, come dire, confermare l'importanza di poter fare una seconda dose diversa dalla prima dose, quindi cosiddetta vaccinazione eterologa, oppure sopra i 60 anni sostanzialmente non ci sarebbe nessuna necessità e si potrebbe fare senz'altro la seconda dose con AstraZeneca che, ripeto e sottolino, è comunque un vaccino che contrasta la diffusione della variante Delta. Professor Morone, quindi lei sta comunque dicendo che l'eterologa è preferibile all'omologa sotto i 60 anni, parlando di AstraZeneca ovviamente. Certo, dopo quello che è accaduto è sempre meglio avere il principio della massima precauzione, quindi sotto i 60 anni è preferibile, come dire, l'AIFA raccomanda una seconda dose diversa e quindi con vaccino a RNA moderno Pfizer-BioNTech, ma sopra i 60 anni, a mio parere, si può ripetere AstraZeneca o comunque si può fare anche un altro vaccino a RNA perché cominciano a uscire pubblicazioni, risultati di studi con una numerosità sempre più ampia dove ci sarebbe una maggiore efficacia oltre che una maggiore sicurezza dei vaccini. Parlandone con il proprio medico di base, mi sembra, come ci ricordava poco fa, un suggerimento insomma assolutamente azzeccato. Rispondiamo in pochi secondi a quelli che ci restano alle preoccupazioni degli ascoltatori che dopo il vaccino si precipitano a fare la prova del 9 che per molti è la conta degli anticorpi. Ha senso questo? Guardi, vorrei tranquillizzare tutti quelli che mi scrivono, che mi chiamano, mi telefonano, ho fatto la sierologia per gli anticorpi, li ho trovati bassi eccetera. Noi dobbiamo tenere presente una cosa, i due vaccini, quelli con il vettore con l'adenovirus e quelli RNA hanno una differenza nello stimolare la produzione degli anticorpi, ma hanno una differenza anche nello stimolare l'attività dell'immunità cellulomediata dei linfociti T. Ora noi normalmente andiamo a cercare gli anticorpi, però questi vaccini stimolano un altro tipo di difesa immunitaria estremamente importante, soprattutto avviene con il richiamo, il secondo richiamo, che è quella dei linfociti T. Noi normalmente non andiamo a controllare questi linfociti T perché è una indagine abbastanza complessa e anche costosa. Però vorrei rassicurare tutti, anche coloro che hanno gli anticorpi bassi, hanno comunque una difesa molto importante nei confronti del virus determinata da quest'altra forma di immunità che si chiama immunità cellulomediata. Che bello, abbiamo un professor Morrone rassicurante, ci fa veramente piacere, ma non rassicurante per farlo, ma rassicurante per scienza. Quindi grazie davvero, come sempre, per i suoi interventi su RTL. Ci sentiamo molto presto, le auguriamo buon lavoro e buona giornata. Grazie anche a voi e agli ascoltatori. Grazie professore, grazie di cuore per la sua chiarezza.